Ciao a tutti, eccoci qua di nero vestiti, scuri, l'inverno è arrivato, come il tempo di oggi. Esatto, esatto. Allora, la conversazione di oggi parte da uno spunto che ci avete dato voi, cioè qualcuno ci ha chiesto di spiegare, vuoi avvicinare il tavolo? No, volevo togliere un po' il lato. Ok, eccoci qua. Qualcuno ci ha chiesto se potevamo parlare di quali canali YouTube seguiamo, visto che noi siamo un canale YouTube, però se ne seguiamo alcuni. Giusto. Giusto. Quindi, per esempio, uno che avete citato proprio voi è uno che seguo anch'io, ed è Geopop. Tu lo segui? No, non lo seguo. Non lo segui? Ah, no, seguilo. Allora, sono un gruppo di ragazzi, loro si occupano di scienze principalmente. Per esempio, non so, si occupano, ti spiegano, non so, perché l'Italia è un paese sismico. Poi sono ragazzi che sono specializzati in varie cose, quindi c'è un esperto geologo, un chimico. Quindi, tipo, il chimico ha fatto tutta una serie di video sugli effetti delle droghe, per esempio. Per esempio. Oppure sull'analisi dell'acqua potabile. E sono fatti molto bene, te li consiglio. Sono ragazzi giovani e si sono ingranditi molto. Ok, bene, bene. E l'altro canale che anche avete citato e che anch'io seguo è Nova Alexio. È Nova Alexio. Sì. È Nova Alexio, sì. Sono principalmente video di storia e devo dire che anche quelli mi piacciono molto. Sono fatti molto molto bene, sono molto approfonditi, quindi li seguo anch'io. Quindi divulgativi. Esatto, sì, sì, video divulgativi. Tu che video, che canali segui su YouTube? Allora, YouTube sicuramente seguo molto Barbero. Ah, sì, esatto. Le conferenze di Barbero e quindi un famoso divulgatore storico, professore, universitario, specializzato in... Un medievalista. Esatto. Che però si occupa un po' di tutta la storia. Sicuramente lo conoscete, molti di voi lo conosceranno. Sì. Che è anche un podcast, ma questo ne parleremo dopo. E poi in realtà io ovviamente guardo molti canali musicali. Ah, giusto. Ecco, quindi è un suggerimento che va a chi è interessato di musica, magari vuole esplorare un po' anche la musica italiana. Esatto. Cosa sta succedendo musicalmente in Italia. E io consiglio il canale di Enrico Silvestrin. Te lo ricordi Enrico? Ah, dai, sì. VJ anni 90. Era un mito per la nostra generazione, perché era il primo italiano, è stato il primo italiano a fare il VJ, come si chiamavano allora, a MTV a Londra. Eh sì, perché parlava bene inglese lui, no? Ah, pensa te, ancora vivo e fa qualcosa. Ed è un canale molto interessante, anche perché lui ha un buon eloquio, quindi parla molto bene, intervista dei personaggi molto interessanti e adesso in particolare c'è questa polemica su X Factor. Ah, sì, sì, sì. C'è un'intervista a Morgan molto interessante. Ah, ok. Sì, sì, molto figo. E poi qualche volta, così proprio, seguo un canale di cucina. Che però questa è quasi un po' una pubblicità, perché è una mia amica. Ah, dai, davvero? Di Reggio Emilia, sì. Che si chiama Cristina, che ha un canale simpatico di cucina, che si chiama Mamma Mia Che Buono. Ok, me lo segno. Dove insieme con una, con la sua, con sua suocera, no, con sua cognata, con sua cognata russa. Ah, ok. Fanno delle ricette di cucina molto semplici, molto divertenti. Ah, hai mai provato una? Eh, ne ho provata qualcuna, sì. Ho provato della pasta fresca, dei condimenti. Ok, allora me lo segno. E poi, vabbè, io ho degli interessi un po' strani, insomma. Mi piacciono gli orologi. Ah, è vero. Hai ancora quella passione lì. Ho ancora quella passione lì, che si è frenata, per fortuna, con il freno delle mie finanze. E si chiama Davide Ceccherini, ed è una persona che, anche lì se gli interessa il vocabolario tecnico, non so, di cose particolari, di orologi, così, ha un canale molto simpatico, che si chiama Contatori del Tempo, che è molto popolare nell'ambiente, di nicchia ovviamente. In voi amanti degli orologi. Esatto, esatto, sì, sì, un po' per tutti. Tra l'altro, questo dovrebbe essere uno dei motivi per cui possiamo consigliare i podcast. Se avete una passione, che possono essere gli orologi, la musica, la cucina, qualsiasi altro, cercate dei canali in italiano che parlano di quello, perché così, con l'interesse per l'argomento, ovviamente imparate anche, appunto, ascoltate l'italiano e, no? Esatto, sì. È un buon modo, quindi l'argomento vi interessa. Io devo dire che YouTube lo uso un po' in modo strano, perché lo uso con i video per rilassarmi. Ah, ok. E ci sono tutti i video dove non parlano, cibo di strada giapponese e coreano, dove lo preparano. Perché senti i rumori. Esatto, esatto. Come si chiama quella cosa lì in inglese? Ha un nome. ASMR. Ok. Esatto, solo i rumori. Così. Poi ci sono quelli che costruiscono le case nel bosco, tipo tagliano gli alberi e costruiscono capanne, eccetera. Poi c'è uno che prova tutti gli attrezzi da campeggio. Quindi arriva, monta la tenda, c'è tutte le cose del campeggio e mi rilassano, mi rilassano tantissimo. Interessante. Sì, quindi ecco, in YouTube guardo più questo tipo di video qua, oppure Geopop è nuovo Alexio, ecco. Però diciamo che sono più una tipa da podcast. Ok. Quindi non guardi, non ti interessa qualche volta guardare le interviste su YouTube? Ah no, è vero, hai ragione, scusami, hai ragione. Adesso le guardo meno perché le trovo anche su Instagram, però è vero, in realtà ho guardato tantissimo e mi è servito un sacco per l'inglese le interviste dei talk show americani o inglesi tipo Ellen DeGeneres o Jimmy Fallon, Graham Norton, quindi assolutamente, ecco, è vero, quello mi è servito un sacco, sì. Potrebbe essere molto utile se vi piace il cinema, per esempio, e mi sono dimenticato di citare uno dei canali dal titolo un po' sinistro, perché Archivio Luce, Cine Città, sapete l'Istituto Luce è stato il primo istituto, insomma, televisivo di propaganda cinematografico, non televisivo, perché non c'era la tv, cinematografico di Cine Città. Esatto. E con cui avveniva la propaganda, poi però è un archivio molto interessante, perché c'è, ci sono interviste, materiale cinematografico che va dall'inizio del cinema italiano per tutta la fase della televisione fino ai giorni nostri, quindi trovate un sacco di materiale, Archivio Luce Cine Città e trovate tantissime interviste anche a, vero, ultimamente c'è un'intervista alla... A Cortellese. A Cortellesi. Ah, ok. Esatto. Giusto. E poi anche tantissime interviste, ma a personaggi incredibili, anche Calvino, Morali. Vero, sì, giusto, poeti, vincitori di premi Nobel, quindi, vero. Quindi se vi interessa letteratura e cinema, è un canale interessantissimo. Istituto Luce. Ricchissimo, esatto. Però appunto, dicevo, io sono un po' più una tipa da podcast perché mi piace come cammino tanto e quindi metto le cuffie la mattina e ascolto appunto i podcast, quindi ho più possibilità anche quando sono in macchina. Quindi, ecco, adesso, quest'ultimo anno, veramente ne sto ascoltando tanti e ce n'è uno dei miei preferiti che te l'ho attaccato. Mamma mia. Ed è un podcast di Cronaca Nera, quindi casi di Cronaca Nera famosi italiani, più o meno famosi, però molti sono quelli che, insomma, di cui si è parlato tanto sui giornali e ogni puntata, c'è una puntata al mese, il primo del mese, quindi adesso, eh. Ah, sì. Domani, domani. Ma sarà la prossima? Eh, non si sa, non si sa, quindi tutti sono in attesa. Questo podcast si chiama Indagini, è fatto da un giornalista molto bravo, esperto di Cronaca Cronaca Nera, ed è un podcast che si trova sia, per esempio, su Spotify, io li ascolto molti su Spotify, ma anche sul Post. Esatto, che è questa rivista online, scusami. È un giornale online. Un giornale online, sì, giornale online, esatto. Ricchissimo di contenuti, veramente, ve lo straconsigliamo. Esatto. E diretto da El Soffri, giusto? Eh, non mi ricordo. Credo che sia Soffri, sì. Ah, ok. E che è un famoso giornalista che ha diretto anche, che ha partecipato a talk show, diretto talk show della Sette, canali importanti, insomma, scritto sulla Repubblica. Eh, sì. Quindi, persona di spessore. Esatto. E sì, me l'hai attaccato brutalmente, queste indagini, perché io sono molto appassionato di, soprattutto, casi irrisolti. Esatto. In Italia ce ne sono tanti. L'Italia è ricchissima di casi di Cronaca Nera, purtroppo. E anche molto appassionanti, ahimè, perché spesso includono anche Stato, organismi dello Stato, servizi segreti, no? Chiesa. Chiesa, Vaticano, chi più ne ha più ne metta. Esatto, quindi molto appassionante. Ecco, uno stile asciutto, uno stile molto chiaro, asciutto, giornalistico, molto dettagliato, quindi, a me piace per quello, ecco, perché è molto descrittivo e anche imparziale, quindi mi piace per quello. E tornando a YouTube, perché adesso molti audio di YouTube sono stati trasposti nei podcast, quindi la stessa cosa che trovate su YouTube, che trovavate dieci anni fa, la trovate ora sui podcast, con lo stesso audio, no? Una cosa che ho ripreso, che avevo visto tutta su YouTube, è anche qui, cose non proprio allegre, ma la notte della Repubblica, di Zavoli. Ah, ok, sì. Zavoli era un grandissimo giornalista della Rai, che ha praticamente fatto una trasmissione dettagliatissima su tutti i casi, soprattutto, ahimè, degli anni 70, quindi terrorismo, stragi, cose molto interessanti, se vi interessa la storia anche un po' cupa, ecco, dell'Italia. E recente soprattutto, no? Perché spesso si arriva un po' sempre fino alla guerra, poi dopo si va a poco, invece questa è proprio la storia, gli anni di piombo, gli anni 70, quindi una storia che non tutti conoscono dell'Italia, però recente, quindi interessante. E con un linguaggio, veramente una lingua bella, proprio da giornalismo degli anni 70. Di altri tempi. Esatto, ricco, ricco. Parlando di giornalismo, tu segui altri podcast di attualità o comunque così? Beh, quando mi voglio informare, ascolto il podcast della Sette, il TG della Sette, insomma, di Enrico Mentana, quello un po' più equilibrato, forse, ecco, non particolarmente schierato, giusto. E basta, in realtà, ecco, di solito lo metto la mattina, le notizie flash, oppure l'Ansa, però è quello, insomma, su Google, ecco, sul web, non penso che ci sia un podcast, ecco, quando stai bevendo il caffè, guardi, flash, no, pam, 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 ti fai un'idea delle tragedie del giorno. Ansa è un'agenzia che batte le notizie nel momento proprio in cui arrivano ora adesso con Google, però ecco, se volete essere super aggiornati, cercate Ansa e trovate tutte le notizie appena arrivano. Stavo pensando che un podcast che io ho consigliato spesso e l'ho usato anche in classe è un podcast che si intitola The Essential, quindi ha un titolo inglese, però in realtà è una giornalista italianissima che ogni giorno racconta due notizie dal mondo, quindi possono essere italiane o di un altro paese, in sette minuti. Quindi, secondo me, ha il pregio di essere un podcast molto veloce, che quindi si può ascoltare in pochi minuti e quindi anche seguire in modo semplice e parla di notizie che tutti più o meno possono conoscere. E quindi questo lo consiglio spesso. Ecco, però io in generale, per esempio, non ascolto tanti podcast di informazione, per quello uso magari internet o le pagine o Twitter, per esempio, anzi, X si chiama adesso, non più Twitter. e in realtà i podcast li uso più per, non so, ascolto... un altro podcast che ascolto, per esempio, è Morgana. Morgana è un podcast che ha creato Michela Murgia, scrittrice italiana che purtroppo è morta quest'anno, ad agosto, ed è molto interessante perché ogni puntata è una biografia di una donna, di solito sono donne, con una vita un po' fuori dall'ordinario, ecco, ma è molto interessante perché ci sono stiliste, ci sono cantanti, ci sono sportive, per esempio, oppure ha fatto anche una puntata su David Bowie e una su Stephen King, quindi insomma, ve lo consiglio, sono storie di questi personaggi un po' fuori dalle righe, come si dice. Sì, sì, stavo pensando che, non so se anche in inglese o nelle vostre lingue si possa tradurre la parola divulgatore, no? Ah, ok. Cioè, questa persona che si occupa di diffondere cultura, storia, eccetera, che in Italia, per fortuna, abbiamo. Eh, sì, 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 sì. Sì, a me piace molto, beh, appunto Barbero, ne abbiamo parlato, storia. Esatto. Alberto Angela. Molti lo conoscono. Eh, è un divulgatore. Anche lui, sì. O Augas, anche Corrado Augas, no? Se volete proprio ascoltare una bella lingua anche lì. Ah, sì. Senza troppe brutte parole, come purtroppo succede adesso. Sì, 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 assolutamente. Un altro che mi viene in mente, che potrebbe essere buono da ascoltare, è un podcast, anche questo ha un titolo inglese, molti hanno titoli in inglese, ma in realtà poi sono... Un po' accattivante. Esatto, sono molto italiani. Si chiama One More Time e sono sempre interviste di personaggi e, diciamo, il filo comune di tutte queste storie sono persone, il fatto è che sono persone che nella vita hanno raggiunto il successo e poi lo hanno perso, quindi hanno toccato un po' il fondo e poi piano piano sono risalite, diciamo, no? Quindi hanno tutte un po' questa idea di base e sono interviste a... sono tutte italiane, tutti personaggi italiani. Anche in questo caso è molto interessante perché ci sono cantanti, sportivi, attori, ma anche imprenditori. Per esempio c'è la storia di Renzo Rosso, che magari non lo sapete, ma la Diesel, la marca di vestiti è italiana, anzi Veneta, di Vicenza, di Vicenza e Renzo Rosso è il proprietario. E quindi ecco, molto molto interessanti. Durano circa un'ora e secondo me sono anche molto chiari da sentire. Sono registrati molto bene, quindi ve lo consiglio anche questo. E non so se ci sia su podcast, spero di sì, però adesso mi è venuto in mente e lo cercherò. Mi piace molto anche La Confessione. Non la conosco. È presente il giornalista del Fatto Quotidiano, insomma un periodico abbastanza popolare, e trasmissione La Confessione dove arrivano questi personaggi italiani, italianissimi, magari un po' discussi o controversi, e sono invitati a confessarsi praticamente. Ah, ok. Sono domande abbastanza scomode, quindi interessante. Potete trovarle anche su YouTube sicuramente, ecco. Ecco, la cosa buona appunto di trovarle anche su YouTube, stavo pensando per esempio il podcast di One More Time, su YouTube lo trovate, le puntate sono uguali, e su YouTube ci sono anche i sottotitoli, quindi questo vi può aiutare. Un'altra cosa che vi può aiutare, sapete che sui podcast potete abbassare, come dire, ridurre la velocità dell'audio, no? Quindi ascoltarlo più basso. Ah, una cosa giustamente, potete farlo anche con i nostri video, lo sapete bene che potete mettere magari uno 0,75 se abbiamo parlato troppo veloce, perché abbiamo bevuto troppo caffè o ecco perché ci siamo troppo appassionati all'argomento, quindi potete sempre rallentare. Il video. Anche se sembriamo un po' ubriachi. Fa ridere, perché sembriamo sbronzi. Allora, però vi può aiutare. Ecco, a proposito di sbronze, stavo pensando un podcast che mi sono scritta perché volevo consigliarlo, e ce ne sono tanti. Ci sono dei podcast che sono fatti solo su un fatto, su qualcosa che è successo, e di questi io ne ho ascoltati alcuni, perché mi interessano, perché sono magari otto puntate, otto, sette, otto puntate, che approfondiscono un fatto che può essere di cronaca, di storia, eccetera. E pensa, io non avevo mai sentito questa storia, ma ho scoperto il podcast che si intitola Metanolo. Questo podcast racconta una cosa che è successa in Italia. Se siete appassionati di vino è molto interessante, perché negli anni Ottanta c'è stato questo scandalo, ma anche una tragedia, perché alcune aziende hanno sofisticato il vino con il metanolo per aumentare il grado alcolico e spendere meno, però con questo hanno ucciso un numero di persone, una trentina di persone, più altre rimaste ferite in modo grave. Quindi, insomma, una cosa molto grave di cui io sinceramente non avevo mai sentito parlare. E questo podcast non solo racconta questa storia, che è molto interessante, ma soprattutto racconta anche come, da questo momento qua, si inizia a fare più attenzione alla qualità del vino. E questo è molto interessante, perché racconta anche del vino esportato dall'Italia, come si controlla adesso il vino. E grazie a quel fatto tragico è cambiata tutta la legislazione del vino. Quindi è molto interessante. Sì, 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 sì. È interessante quello che hai detto prima sul fatto che, sul fatto di trovare una passione o di avere una passione, perché io sostengo sempre, quando i miei studenti mi domandano come posso imparare l'italiano, così, io dico sempre che la lingua secondo me dovrebbe essere un mezzo. Esatto. Più che un obiettivo, no? Lo diciamo spesso. Ecco, trovare un mezzo, una chiave per approfondire una vostra passione. Sì. Quindi, soprattutto se questa passione è molto aderente alla lingua che state studiando. Per esempio, per me la musica e l'inglese. L'inglese non era l'obiettivo finale, era comprendere i testi dei cantanti che mi ha fatto o capire cosa diceva, non so, Mark Twain nella sua lingua originale. Quindi, ecco, trovare una passione e grazie alla lingua arrivare a comprendere tutto di quello che vi piace, insomma. Esatto. L'opera, la politica italiana, la cucina. Il trucco, per esempio, ci sono dei canali dove le donne si truccano, insegnano a truccare, per esempio, e quello è super interessante, super utile. Ecco, io lo vedo al contrario, magari li guardo, oppure sì, la musica, per esempio, o altre cose, gli animali, per esempio. Mi piace guardare i video con gli animali e se c'è la descrizione in inglese o in altre lingue che mi interessano, la ascolto, ecco. Giusto. E dicevamo che anche possiamo consigliare Rai Play Sound, che è il canale radio della Rai, ok? Dove trovate un'infinità di cose, cioè anzi, forse la scelta è anche troppo vasta. È sterminata. Esatto. Quindi è molto difficile trovare qualcosa lì dentro, perché ci sono audiolibri, ci sono trasmissioni su qualsiasi argomento, quindi veramente è un pozzo senza fondo, dove potrete trovare di tutto. L'unico problema è che forse è un podcast che non si può sentire all'estero, come la Rai. Forse sì, chissà. Quindi ecco, magari fateci sapere se riuscite ad ascoltare Rai Play Sound, perché quello veramente trovate di tutto. Io devo dire che a volte lo uso anche per addormentarmi. C'è un bisogno di qualcosa, di qualcuno che parli in sottofondo con un tono molto basso. Di solito mi ascolto le trasmissioni di musica classica, che danno su Radio 3. Le biografie tipo del compositore del 1400. Mi addormento dopo dieci minuti, meglio di un sonnifero. Mamma, mi hai fatto venire in mente quelle trasmissioni radio sull'AM. Esatto, ah sì, esatto. Della Rai, della notte, che ascoltava mia nonna proprio per dormire. E adesso, insomma, si è attualizzato con i podcast. Esatto, con le tribune politiche, no? Che parlano, parlano, e dopo un po' ti addormenti. Ecco. Un altro podcast che ascolto, anzi ce l'ho salvato, è proprio quello di meditazione per dormire. Ma sono incredibili. Cioè c'è una voce che ti dice, adesso chiudi gli occhi, pensa, che potrebbe essere utile per l'imperativo. No, quelli con questa voce calda, anche quelli, ti addormenti subito. Proverò, proverò. Quindi anche quelli potete ascoltare, no? Perché no? Magari dopo sognate in italiano, chi lo sa. Il primo passo. Verso il successo. Esatto. Bene, allora, direi che abbiamo finito. Sì. Se avete qualche informazione voi, su qualche podcast italiano che voi ascoltate, che magari volete consigliare, fatecelo sapere nei commenti qua sotto. Esatto, iscrivetevi al nostro canale e fateci un bel like. Esatto. E niente, se avete suggerimenti o domande in particolare su argomenti di cui volete ascoltare una conversazione, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Saremo contenti. Grazie a tutti, alla prossima. Alla prossima. Ciao.